il 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 guarda lì, guarda lì ma chi sta? ma chi stai passando? che le stai passando? quanto tempo fa? beh ma le stiamo dire che manchino da tutti ma le vanno ma le vanno vanno metterli in onda questa è pepita non lo so sono legati dai Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti. Quando suona? Quando le energie gira? Due, tre, due, cinque, ok? Sì, due. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.